Ciao. Dopo l'abbandono, dopo il famoso distacco, il narcisista continua la sua crudeltà, purtroppo. Sappiamo già che un narcisista tendenzialmente, per lui, non ha nulla di più accitante e accattivante che mantenere più relazioni contemporaneamente, se non essere positive come un rapporto di coppia o con più partner contemporaneamente, o negativa come rapporto distruttivo rivolto verso l'ex. L'importante è che lui abbia più persone da gestire e da manipolare. Questa moltitudine di persone che lui ha da gestire viene chiamata triangolazione relazionale, in quanto non esiste solo la coppia attuale dove magari tu sei coinvolto o coinvolta in quel momento, ma esistono altre ex o altre nuove vittime che lui mantiene o frequenta nel contempo, in contemporanea a te. Il momento preferito del narcisista di riattivare la triangolazione è proprio quando finisce la relazione con te. Cioè nel momento in cui finisce la relazione con te, ecco che si scatena la sua massima goduria, la sua massima fonte di piacere, perché non c'è più nulla di accettante per un uomo, per una donna, del genere, vedere più partner lottare per conquistarlo o riconquistarlo, quindi fa di tutto per avere lui come partner ideale. Questo gioco è un gioco per chi è vittima bestiale, ma lui è il gioco top, è il gioco leader, che gli permette di gratificare al massimo il suo ego, perché lui è dotato non solo di tanto ego, ma anche di tante indifferenze e crudeltà. Lui o lei sono dei pur narcisisti patologici, non hanno per nulla empatia verso le persone. Anzi, dopo poche giorni della rottura, il narcisista inizierà a pubblicare foto di sé, sicuramente con un altro o con un'altra, senza alcun imbarazzo, nel senso di colpa, cercando anzi di espandere il più possibile la notizia, in modo che questa notizia arrivi a te, ex, ex vittima, ex partner, affinché tu possa essere colpita, possa soffrire di questa sua nuova fiamma, e possa magari essere ancora più manipolata perché tendi a ritornare da lui e quindi lui potrà farti sottostare ancora di più a quelli che sono i suoi giochi perversi. Ovviamente sappi e ricordati che la tua sofferenza non fa altro che alimentare l'ego del narcisista. Più lui ti vede soffrire, più il suo ego si alimenta, perché come abbiamo detto prima, non c'è niente di più bello per un narcisista patologico di vedere più persone che lottano per conquistarlo o riconquistarlo. Quindi, mentre la vittima, l'ex, la persona lasciata, diventa instabile, diventa gelosa, diventa sofferente per tutte queste manifestazioni e si chiede come mai sia stata messa da parte, e come mai è stata sostituita così, ecco che lui si diverte, gode nel mostrare a tutti la sua nuova preda. Ovviamente, mentre mostra la sua nuova preda, lui si sta già preparando per la prossima sostituzione, perché il suo ciclo è continuo, il suo ego va alimentato sempre e sovente. Quindi, lui continuerà a pubblicare foto con questa nuova conquista o con queste nuove conquiste, proprio per alimentare questa disputa, questa lotta alla conquista. Non solo, lui cercherà di fare di tutto per far passare te, ex, come la persona peggiore che abbia creato problemi, come invece si è affortunato ora di aver incontrato la persona migliore della propria vita. Non solo, sarà circondato da persone non molto intelligenti oppure manipolate, il famoso fan club del narcisista, che sarà lì ad applaudire a piene mani l'eroe che finalmente ha trovato il grande amore della sua vita, che finalmente si è liberato di un peso, di una persona che non riusciva a soddisfare le sue esigenze, o che gli creava problemi nella vita, o lo limitava. Ecco che in fondo tutti o tanti, proprio perché lui tenderà a esaltare se stesso e a denigrare sempre più la sua ex, tutti stanno lì a elogiare il suo operato, così in modo un po', chiamiamolo banale, o in modo molto burattinesco, perché sembrano un po' tutti i burattini, vanno lì a dire bravo, bravo, ti sei fatto una vita senza sapere cosa c'è dietro. Ovviamente a questa cosa. Oltretutto i social non fanno altro che amplificare queste cose, perché sono tutte lì pronte a dire bravo, senza sapere cosa c'è dietro, senza sapere l'etroscena, quando magari uno dice ecco ho finito una storia bruttissima con questa qua, e tutti a insultare questa persona con cui è finita la storia, senza sapere nemmeno chi è, senza sapere nemmeno un minimo di sua storia, e vanno a alloggiare il narcisista che si fa bello dicendo guardate nonostante io sia uscito da una storia brutta, ho avuto la forza, la capacità di ripartire, ecco la mia nuova fiamma, ecco l'amore della mia vita, anzi questo sì, o questa sì, che veramente è l'uomo o la donna della mia vita, finalmente ce l'ho fatta. Mentre fa questo, voi soffrite come un cane, ma lui sta solo giocando, si sta solo divertendo, e sta già preparando tutto il suo ciclo, tutto il suo treno, per rifare la stessa cosa con la persona con cui si sta in questo momento mostrando come se fosse l'amore della sua vita. Quindi, ricordatevi, non ha senso prendersela se queste persone sono così stupide, sono così poco empatiche da agire in questo modo, se queste persone calpestano i sentimenti degli altri e non hanno un minimo di empatia o di sensibilità. Quindi, è importante che voi facciate il blocco totale di tutti i contatti, che non stiate lì a morire dietro, che non state lì a arrabbiarvi, o stare male, o soffrire di quello che lui sta facendo, delle foto che pubblica. Io tante volte sento purtroppo, molte persone dicono, ecco, come mai? Ecco, vedi, è già con un'altra così. Sono persone che hanno un ciclo mentale disturbato e quello è il loro unico modo che conoscono di fare. Non voglio giustificarli, ma voglio solo dire che non ha senso essere lì e stare male voi per delle persone che non hanno un minimo di empatia, a cui non interessa assolutamente un vero e un sano rapporto sentimentale, ma hanno l'unico scopo, che è quello di alimentare il proprio ego. Quindi non perdete tempo, non perdete energie, non state lì a sprecare veramente neanche un secondo del vostro prezioso tempo. Bene, spero di essere stati utili anche questa volta qua. Vi ricordo l'associazione che Serena Io gestiamo e conduciamo per aiutare le persone a uscire da quelle stesse condizioni di sofferenza, www.ioscielgomè.it A presto, ciao!